quando si pone un caffariello una goduria por il palato ma si scuttendo mi sembra della lava non me ne fotte e ti gusto assai ciao Perca... Mi sono sporcato tutto di caffè Non spara, porco... 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 Porco diaz Porco diaz, porco diaz Porco diaz, scuders, fai cagare Fai cagare, scuders Fai cagare, come il buco del culo Fai cagare Non si può Non si può Non si può Non si può Nice Quello era scarsissimo Quello era una merda Scarsissimo Che non sapeva neanche dove cazzo abitava Come cazzo è possibile che non sono entrati gli altri colpi di pompa O li avevo finiti O c'è stato un problema figa Perché non ha sparato Santa miseria della Baldraca L'urida cavernicola figa La NON SPARA! NON SPARA! PERCHEEE? PERCHEEE? NON SPARA! Ma com'è possibile? No, ma com'è possibile? OH MA PORCO DIAZ NO SPARA! Che merda di gioco di merda, di un player di merda, di un pompa di merda! Ma che cazzo stai a dico? Non spara porco diaz, non spara porco diaz! Non ho veramente parole, non ho veramente parole, minchia deve togliermi questa sfida, deve togliermi questa sfida perchè mi sta salendo un porco che non è un diaz e Cameron non c'entra proprio niente, e Cameron non c'entra proprio niente, ma ti sembra normale! Ma che cazzo è? 118! Ed è giusto, 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 ed è giusto! Se è porco diaz, porco di quel diaz, porco! Porco diaz, sono io che gioco male! Porco diaz, porco diaz! Che è nervoso perdere così! Dio, porta via questa cazzo di macchina da qua! Portala via, portala via! Ci insegue, ci insegue! Portala via! Ma questo cazzo corre veloce! Vai velocissimo! No 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 Grazie.